Hello guys, benvenuti in questo nuovo video per la rubrica delle guide Retroformat che avrà oggi come protagonista il formato HUT che sicuramente avrete sentito nominare soprattutto se siete giocatori di Time Wizard. Andiamo quindi a risolvere vari dubbi in merito alla Master Rule utilizzabile, quale sottoperiodo è quello dominante, i mazzi giocabili e così via. Come al solito dividerò tutto in varie categorie che verranno indicate e suddivise nelle varie sezioni del video. Prima di continuare però se vi piacciono contenuti retroformat come Edison o Tenguplant che siano decklist o guide come la seguente che trovate sul mio canale riguardo i formati citati oppure vi piacciono unboxing di prodotti anche abbastanza vecchiotti TCG e OCG iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e un commento. Vi prende un minimo del vostro tempo ma sopporterete in maniera esponenziale me ed il mio lavoro. Vorrei arrivare ai 3000 iscritti per la fine dell'anno quindi mi raccomando il vostro supporto essenziale e manca davvero poco. Più volte nei video ho citato riguardo questa guida e finalmente oggi ve l'ha posto quindi bando alle ciance e cominciamo. Il formato Hutt non deve assolutamente il suo nome a qualcuno con il cappello ma similmente come in Goat ad uno dei mazzi più popolari del periodo ossia Land Artifact Trap Tricks e si fa riferimento al periodo compreso dal rilascio di Primal Origin origine primordiale fino all'uscita il duodist alliance ossia alleanza dei duellanti in italiano ad agosto 2014 una bustina rivoluzionaria per il gioco dato che iniziò ad introdurre i pendulum quasi dieci anni fa. Riguardo a Bundles si fa riferimento ad aprile 2014 TCG. E' importante sottolineare questo perché in passato e magari molti altri boomer del gioco come me se lo ricorderanno le Bundles TCG e OCG non presentavano differenze quindi qualora doveste cercare la Bundles di riferimento specificate TCG ma per comodità e facilitarvi le cose in descrizione vi inserirò tutti i link per aiutarvi. Prima menzionavo vari sottoperiodi. E' una questione simile alla diatriba dello Structure Deck Mondoscuro in Tenguplant che a proposito se dovesse interessarvi potete controllare la guida che ho realizzato in merito sul mio canale. Per quanto riguarda invece il formato at possiamo individuare tre sottoperiodi. Abbiamo quindi l'early at quindi da primate origin fino a prima che venisse rilasciato lo Structure Deck Realm of Light quello dei fedeli della luce insomma. Di seguito abbiamo LIGO Middle che come suggerisce il nome e il periodo di mezzo quindi dallo Structure Deck citato fino alla Bundlist del 14 luglio ed infine abbiamo il late at quindi dalla Bundlist del 14 luglio fino a Duellist Alliance il 14 agosto che come vi accennavo prima è una delle buste più rivoluzionari del gioco dato che viene introdotta la Master Rule 3 con l'arrivo dei Pendulum e si inizieranno a pescare solo cinque carte se si inizia per primo. Tuttavia si cerca sempre di far riferimento ad un evento nello specifico ed in questo caso si parla del World Championship Qualifier del 2014 nordamericano con vincitore Corey McDuffie, non con il suo cappello ma con il suo hat la cui vittoria ha contribuito ed inciso sul nome da attribuire al formato in questione. L'evento si è tenuto l'11 luglio 2014 il che come potrete intuire vuol dire che il sottoperiodo utilizzato e come riferimento principale è il secondo quindi like o middle come preferite chiamarlo insomma. Come al solito ragazzi tendo sempre a precisare una cosa questo è quello maggiormente utilizzato ma il bello del retroformat del Time Wizard è proprio la possibilità di potersi adattare. Quindi qualora gradiste maggiormente un altro dei tre sottoperiodi la scelta è vostra. Ovviamente la questione da accordare con il negozio che frequentate è la community o direttamente fra di voi se siete come dico sempre io il gruppetto il garage. Dal mio punto di vista il formato hat è importante perché si esce da un periodo molto buio del gioco con il meta Dragon Ruler Spellbook quindi anche il passato nasconde delle insidie nella storia del gioco. Giocare al cosiddetto solitario personalmente parlando non è bello soprattutto se i mazzi da meta sono letteralmente gli stessi e due precisi di numero e se la varietà dei mazzi viene meno in un gioco come Yu-Gi-Oh per me è un fallimento totale. Quindi ripeto non sempre il passato è bello poi magari a voi ha divertito quel periodo ma a me sinceramente non è piaciuto per nulla. Tornando a parlare del 2014 abbiamo invece una grande varietà con mazzi che potremmo definire ben scanditi nella tipologia, archetipo e strategia in maniera forse un po' più netta rispetto ai formati già citati all'interno del canale che seguono più un andamento generico del gameplay del meta. Possiamo distinguere quindi Agro di cui fanno parte mazzi come Mermei, Lysword, Darkwall, Firefeest, Blackwing o mazzi combo come Karakuri, Sylvan, Laval, Yeratic Reuler, Insector ma anche mazzi control come Boojin, Abyssword, Gyarja, Spearbook, Worm o per l'appunto Hutt e meno male sono anche i mazzi più noti all'interno del formato. Di seguito vi mostrerò quelle che reputo le carte da tenere più in considerazione per questo formato. Non potrò le encarte tutte altrimenti il video diventerebbe infinito e non il Cyber Dragon. Abbiamo quindi le mani di fuoco e di ghiaccio, utili sia come difesa ma anche come pulizia del terreno per certi versi. Reparto Trap Tricks e Artifact perché devi rompere i c***o. Soul Charge secondo me è la carta più emblematica di tutto il formato. Vanity Semptiness ormai resa nota dopo l'utilizzo immondiale in Dragon Ruler e schizzata a prezzi esorbitanti nonostante fosse una common ma short print in Star Strike Blast. Wired Tap forte contro quasi tutto il meta dato che gran parte dei mazzi abusano delle carte trappola e soprattutto è una counter trap, quindi a cagare il cazzo ci vuole un altro c***o. Tifone, staple abbastanza nota, il Compulsory che a mio parere, almeno in passato, prima del 2013-2014, è sempre stata una delle carte più sottovalutate di sempre nell'era 5Ds Zexale e qui assume un ruolo quasi chiavi come trappola in vista delle numerose evocazioni d'Alexia Deck e similmente il Corno Nero del Paradiso. Risocchiabilità, anch'essa new entry ed il cucino povero di impermanenza infinita. Abbiamo anche Soleil Warning, Book of Moon, noto per la sua versatilità offensiva e difensiva. Per quanto del Guardia Side, come prima non vorrei soffermarmi troppo, ma oltre ad alcune carte prima citate e al Corvo DD che è sempre forte, soprattutto se Ultimate, vorrei soffermarmi sempre sul Max-C e la questione Max-C che spaventa giustamente i players del formato attuale, ma che, come già accennato nel video alla guida per il formato Tengu Plant, è una carta assolutamente forte ma bilanciata per com'era il gioco in quel periodo. Parlando invece dei mostri dell'Extra Deck, ce ne sono tantissimi come Zenmine, Spelegram, i rank 7 come Dracosak e Big Eye, ma fra quelli utilizzati all'interno del formato è importante soffermarsi sui seguenti. Il più importante è Heavy Swarm Excite on Night, il mostro più pericoloso dell'Extra Deck a mio parere in questo formato, vista l'accessibilità con cui evocarlo ed ovviamente il suo effetto World Breaker. La Valve al Chain, che permette un'ottima gestione delle risorse del deck. Numero 101, che per gli amanti di Goat fa quasi dal limite da mille occhi contro i mostri evocati specialmente. La Beast Dweller, noto ancora oggi per contrastare gli effetti dei mostri che si attivano al cimitero, come per il Mermail. La Gusto Emerald, che può farci quasi da Pot of Averis o evocare un giallone dal nostro cimitero. Numero 106, Giant Hand e Gaga Cowboy perché rompono i c***i. Crimson Blader è un Floodgater con gli spadoni, numero 103, Ragnar Zero perché ti piace la vulva, Leo perché sì e Star Heater, secondo me uno degli artwork e mostri drago più belli all'interno del gioco che ti mangiano non solo le stelle ma pure la partita. Io vi ringrazio per aver guardato questa guida introduttiva fino a questo punto, se il video ti è stato utile rinnova il mio invito non solo ad iscriverti al canale ma anche a seguirmi sui miei social ed in particolare sul mio server Discord in cui organizziamo tornei della community, si scambiano opinioni in un server molto tranquillo che vuole unire appassionati del gioco e marginando la tossicità. Troverai tutti i link qui sotto in descrizione. E voi cosa ne pensate di questo formato? Ancora una volta, come in ogni videoguida, vorrei farvi un invito che potremmo definire morale. Se avete preferenze con un altro formato, giocate a quelli che preferite senza sminuire chi gioca ad altri. Giocate a che volete ma, come si suol dire in gergo tecnico, non cagate al canale. Sperimentate, divertitevi, è giusto avere delle opinioni personali e anche criticare positivamente e o negativamente qualcosa, ma sempre nei limiti del rispetto del gioco. Detta questa perla di saggezza io vi saluto e vi aspetto al prossimo video o sui miei social. Ciao! See you next time!